Nuova promozione su Bing X, ragazzi, evento per i nuovi utenti italiani, quindi se hai guardato i miei video ma non ti sei ancora iscritto a Bing X, questa è la tua occasione, perché depositando 50 USDT ne ottieni 50 bonus e poi in base ai tuoi volumi che fai puoi sbloccarne al 300, quindi usa il mio link in descrizione per iscriverti, così hai il 10% di sconto sulle fee. Poi ti metto anche il link di questa promozione così puoi partire praticamente, quindi ti consiglio, usa il mio link per iscriverti, il primo link che trovi, il secondo link dopo che ti sei iscritto ci clicchi e poi per fare il deposito clicca qui sul deposita, ovviamente riservato agli utenti nuovi, io non sono un utente nuovo, voi fate che sono stati invitati, quindi dovete utilizzare il mio link in descrizione assolutamente, mi raccomando. Poi cliccate qui sul deposito, mettete 50 USDT e avete il 50 USDT di buono bonus, poi fai trading, lo clicchi da qui e se raggiungi volume di trading credo sia questo, 20.000 USDT di volumi ottieni altri 50 USDT e poi se ottieni 50.000 USDT ulteriori di volume ottieni altri 50 USDT. In descrizione ti metto quindi il primo link per iscriverti, il secondo link per attivare questa promozione e poi ci sono tutti i miei video tutorial su come funziona BingX, su come iscriversi, su come depositare, su come fare trading, copy trading. Se segui i miei video e non ti sei mai iscritto, forse questa è la tua occasione, iscriviti perché hai subito 50 USDT, ti basta iscriverti con i miei link sotto e poi depositare 50 USDT e ne ottieni 100, quindi poi con 100 magari puoi fare trading. O puoi fare il copy trading, il copy trading di BingX ragazzi è molto, molto diciamo almeno per come lo faccio io, molto stabile e sicuro. Perché? Perché BingX ti divide diciamo i trader, da un punteggio ai trader da 1 a 9. e prendendo diciamo i trader che BingX come potete vedere qui definisce conservativi, ovvero quelli che vanno dall'1 al 3, correte pochissimi rischi. Poi ovviamente non sono consigli finanziari, fate le vostre dovute ricerche, tentativi, si possono perdere anche soldi. Però vuoi provare il copy trading? Questo è il momento. Giusto se non l'hai mai fatto e non hai un account su BingX c'è questa promozione per i nuovi utenti. Clicca sul link che trovi in descrizione e il primo link e ti registri. Poi vai sul secondo link e fai il deposito di 50 USDT e poi, quindi poi ne ottieni 100 e poi inizi magari scegli un trader tra mai su copy trading qui e poi scegli un trader che ne so tra quelli conservativi che hanno un punteggio da 1 a 3, per esempio questo target lock 16. Vediamo un po' ultimi 180 giorni, comunque è in profitto. Negli ultimi vediamo 7 giorni 0,92%, negli ultimi 30 giorni 19,44%, negli ultimi 90 giorni 44%. Voi con praticamente il copy trading magari copiate, avete messo 50 USDT, ne avete 50 bonus, avete un budget quindi di 100 USDT. Quello che guadagnate con 500 USDT, anche se avete usato il bonus, è comunque prelevabile. Rischio 2. Vediamo un po' lui che cosa trada. Qui ci dice che fa operazioni credo sulle altcoin, anche se su BingX puoi fare trading sulle cripto, sul forex, sulle materie prime, sugli indici. Pazzesco. E per copiarlo poi vi basta cliccare copia. Io non posso copiare perché sono un trader. Volendo potete copiare anche me, anche se non ve lo consiglio. Poi andiamo a vedere la mia situazione, Mara Trading. Comunque cliccate copia, magari vi consiglio, poi vi chiede di impostare il margine. Quindi con quanto copiare il trader, ogni operazione che apre, voi avete 100 di budget, magari mettete un margine di 20 dollari, di 10 dollari. Sarebbe l'ideale che come margine voi impostassi tra il 5 e il 10% del budget totale che avete. Poi magari volete depositare di più, magari potete depositare 200, ne avete comunque 250. 50 e mettete 25 USDT ad operazione e piano piano può diventare veramente interessante. Se volete approfondireci con i miei tutorial sul copi trading, ve li metto sia qui nelle schede che in descrizione. Guardatevi quelli per approfondire. Però se siete dei nuovi utenti e volete approfittarne entro il 28 febbraio. Questa nuova promozione per i nuovi utenti scade il 28 febbraio. Quindi vi iscrivete con il mio primo link in descrizione. Poi andate nel secondo link che trovate. Non so perché sono finito qui. Ah, perché sono andato qui. Ecco, secondo link. E fate il deposito e i vari trading. Se volete fare trading c'è anche il tutorial per fare trading. La mia strategia, lo trovate tutto in descrizione. Se fate questi volumi 20.000, altri 50 USDT bonus, cliccando subito trading, dopo che avete sbloccato questo potete sbloccare anche questo. Quindi facendone altri 50.000 avete altri 50 USDT bonus. Comunque, i primi vedi prendete facile, vi basta mettere 50 USDT cliccando qui deposita. Tutti i link sono in descrizione. Quindi, copy trading io ve lo consiglio. Se volete fare trading c'è in descrizione, anche qui ve lo metto nelle schede, la mia strategia di trading. Però andiamo a vedere, copy trading, andiamo a cercare me stesso. Così, chiudiamo il video con un po' di intrattenimento. Mara trading. Eccolo qua. Eh, vedete, ultimi 30 giorni. Ultimi 30 giorni, 5.27%. Qualcosa ho guadagnato, ma se andiamo a vedere negli ultimi... Ah, vabbè. Negli ultimi 180 giorni. Ultimi 180 giorni, vediamolo anche di qua, meno 100%. Vabbè, ho fatto... Io non sono un trader professionista, ragazzi, per quello vi consiglio il copy trading. Seguite i trader conservativi e provate. Avete anche il bonus, quindi il link in descrizione. Ed è un modo, il copy trading, per guadagnare in modo passivo. Veramente passivo. Perché voi, una volta che seguite il trader, ce lo impostate, cliccate, impostate un margine, 20 USDT per ogni operazione, poi fa tutto lui. E su 93, su 131 operazioni vincenti, 93 perdenti, su 224 operazioni. Ho fatto 224 operazioni? Non me le sono accorto. Quindi, ragazzi, lasciate perdere Mara Trading, andate nei trader conservativi. Io, aspetta, vediamo che punteggio di rischio mi ha dato. 9. Punteggio di rischio. Ci sono tre persone che mi hanno detto, io, Mara Trading, adesso ho un punteggio di rischio 2 perché non sto operando. Ma quando ho bruciato diverse operazioni, anche se in realtà sono in profitto, nel senso che, non so se lui mi dice, mi dice il budget che avevo. Un tasso di vittoria 58%, comunque, le mie operazioni di trading, andiamo a vedere. Il mio livello è il mio livello è bronzo. Se volete non correre proprio nel minore numero di rischi possibile, scegliete un trader che ha come volume di rischio, come punteggio dato alla piattaforma, praticamente, punteggio di rischio 1. Però questo, per esempio, negli ultimi 180, ecco, questo ve lo segnalo, questo Benhams Hain, negli ultimi, non so che ha combinato, oppure essendo punteggio di rischio 3, ha fatto il 519% negli ultimi 180 giorni. Allora, andiamo a vedere tutte le sue operazioni, eccolo qua, storico delle operazioni, potete controllare tutto e vedete che ha operato su principalmente Bitcoin e Ethereum e ha fatto belle, belle percentuali. Poi potete, ecco, anche esaminare tutte le operazioni e controllare che quando le operazioni sono in rosso, ovvero quando lui ha chiuso in perdita, non ha chiuso con percentuali più alte del 20-30%. Certo, se ha operazioni che ha chiuso al meno 65, meno 80, almeno 100%, statene alla larga. Questo mi sembra davvero interessante. Ecco, dovete avere la pazienza di controllarle tutte, però, se siete nuovi potreste sfruttare il bonus. Quindi, primo link in descrizione vi registrate, col secondo fate il deposito e poi se volete fare trading anche, oppure semplicemente fate il deposito e quindi 50 USDT, ne avete altri 50, totale sono 100. USDT che poi potete venire qui su copy trading e darli a questo trader che vi ho anche individuato, perché da quanto pare, quando ha perso solo tre operazioni fino adesso, comunque voi spulciatevelo tutto, ma sembra interessante. Si chiama, andate su, guardate quante operazioni, sembra veramente imbattibile, Menam Sainten. Mi raccomando, ovviamente, non sono consigli finanziari, con il copy trading, sì, bellissimo, trovare un trader, punteggio tra 1 e 3, tutte le precazioni del caso, però, si possono perdere soldi. Quindi, fate le vostre dovute ricerche, non sono consigli finanziari, ragionate con la vostra attenzia, consapevoli. Se volete provare, comunque, 50 USDT, li depositate, ne avete 50 bonus, fino al 28 febbraio per i nuovi utenti, e in più, se fate 20.000 USDT di volume, avete altri 50 bonus, e se fate 50.000 ulteriori USDT di volume, ne avete altri 50, per un totale di 150 USDT, però, i 50, io vi consiglio, quelli del deposito, prendeteli, vi registrateli, link in descrizione, depositate 50, ne avete 50, con 100, magari fate copy trading con Benjamin Sainten, vi ho dato anche una strategia, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!